Un uomo ha riuscito ad entrare nella bacchina in pala per rubare un mio canale di reggitoria. Il fiammifero non registrava quando c'era l'ascendino e questo è desideramente assurdo. Esiste un gioco che era commesso da Giuseppe Meloni chiamato Gioventù Ribelle ed è una schifezza totale. Nel Nintendo la Playstation, ovvero la Sony, dovevano collaborare per fare una console, ma questa collaborazione non è andata a buon fine e questo rapporto alla nascita della cosiddetta Playstation che adesso è la console più venduta al mondo. Iperfenaya AHHHHHHHHHHHHHHHHH